Mio fratello si è dimenticato a casa il suo smartphone. Andiamoglielo a portare. Io devo consegnare il telefono a mio fratello. Dagli il documento. Sì, anche il documento. Il telefono è questo. Sì, è il suo telefono. E questo che fa del telefono? Dato glielo requisiscono per fare gli esami? No, perché l'hanno chiamato, che siccome non ce l'ha, pensano che ce l'abbia nascosto. Ah, deve dimostrare che è qua. Esatto. Sì, deve dimostrare. Mi dica anche la classe? Sì. Va bene. Ragazzi, qualcosa vi sembra che sia... Ma stiamo facendo un po' da chiesa. Grazie. Io vi ringrazio, ma questi scherzi non mi piacciono. Sì, veramente, avete tempo da perdere. Ma che ragazze di scherzi sono queste, mi spiegate? Il mio smartphone è mio fratello che sta facendo l'esame. Sì, mio fratello. Potresti portarlo in classe? Sì. 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 Grazie per la visione!